in diretta da studio special sulla musica del maestro francesco giuseppe loseto la presentazione è di giulia regia e parte tecnica di antonio questo programma è a cura della redazione musicale di radio titolo in collaborazione con lo stesso autore anche oggi le delicate note di era destino aprono l'appuntamento con lo special dedicato al compositore barese francesco giuseppe loseto la musica di questo artista che oltre a comporre e insegnante di educazione musicale è estremamente profonda essa riesce infatti a trasmettere le più interne e varie sensazioni che esistono in ognuno di noi questo perché francesco giuseppe loseto dall'animo sensibile scrive ispirato alle situazioni e ai momenti più disparati che egli ha vissuto in prima persona seppur in un primo momento la musica di questo artista può non colpire successivamente riascoltando i brani si può riuscire a cogliere il meglio di ciò che egli vuole esprimere quest'oggi lo special verterà sull'ascolto di altri tre brani tratti dal 33 giri intitolato a mio padre inciso nel 1978 con l'etichetta B.I.I. che come ormai saprete ha come significato Bari Italia International questo disco ha una storia alquanto particolare è infatti la sua prima incisione su 33 giri ed è nato qualche mese dopo la morte del padre al quale lo ha dedicato inoltre dopo essere stato ascoltato per caso dall'edizione Usignolo che fa parte della Rai ne è stata richiesta la stampa esclusiva per l'utilizzazione in vari programmi radiofonici e televisivi Rai cosa che continua ad avvenire ancora oggi cito tra i tanti programmi Blitz condotto qualche anno fa da Gianni Minà su Rai 2 ma intanto ascoltiamoci le ultime note di era destino del maestro Francesco Giuseppe Loseco il primo brano di questo appuntamento è il Josette dedicato al fratello dell'autore questa composizione è eseguita al pianoforte ed accompagnata da un ritmo ossessivo sudamericano ed ora l'appunto didattico di oggi il brano ha l'introduzione gli elementi A, B e C con alcune cadenze provate ad annotare questa è un'ottima Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.